Musica 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 Una cosa del romolino è qua, una cosa del romolino. Prende le mani su, eh, 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 eh. Prende le mani su, eh, eh, eh. Prende le mani su, eh, 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 eh. Prende le mani su, eh, 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 eh. Prende le mani su, eh, 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 eh. Prende le mani su, eh, 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 eh. Prende le mani su, eh, 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 eh. Grazie per la visione!